Se devi andare va, io non ti fermerò, qualunque cosa scegli, non t'aspetto. Non t'aspetto, perché il tempo gioca con l'età, perché la mia rabbia non ha pietà, vivi il possesso sul filo del rasoio. Senza di te, senza le tue bugie, senza le tue mani sulle mie, senza di te. Senza di te, senza più giochi e pocrisi, senza le tue fantasie, senza di te. Se vuoi giocare e fare, io non accetterò di bere ancora il tuo veleno. Lui non ti odierà, se poi ti riavrà, sicuro di vederti in chiesa, con un velo. Perché il mio amore non è vendita, perché non dici mai la verità. Sarò a scegliere, se vuoi, sparsa nel vento. Senza di te, senza le tue bugie, senza le tue mani sulle mie, senza di te. Senza di te, senza più giochi e pocrisi, senza le tue fantasie. Grazie a tutti. Senza di te, senza le tue bugie, senza le tue mani sulle mie, Senza di te, senza più giochi e pocrisi, senza le tue fantasie. Senza di te, senza di te, senza di te. Senza di te Senza di te Senza di te Senza di te Loro non sarebbero qua Ti è piaciuto? Una frase proprio ad occhi Voi, questo è il secondo anno che siete a mille voci Ebbene sì Il nostro regista Gianni Turco 100 volte Avete avuto riscontri l'anno scorso? Ecco questa è la domanda Ci hanno chiamato Anzi sul nostro sito internet Abbiamo avuto diversi riscontri Ci hanno visto in tutta Italia Perché la trasmissione andava sui vari emittenti Quindi facciamo questo applauso a Gianni Turco Poi non lo nominiamo più A Gianni Turco Mentre questo c'è di punto di ritorno L'ho letto 50 volte perché volevo dire punto di partenza Perché mi veniva naturale L'avete fatto apposta Per misurare il quotiente intellettivo mio Già sapevamo Da dove siete partiti e dove state tornando? Questo Marzullo me l'ha Siamo partiti nell'84 Lo scrivano del gruppo Un po' di defiance Siamo sciolti Poi siamo tornati insieme da un paio d'anni Appunto il tempo per venire a partecipare a mille voci E trovarci in questa vostra grande famiglia E la quale veramente ci siamo trovati sempre a casa e sempre bene Risponderemo sempre bene a ogni vostra chiamata La cosa più carina se mi permetti è stato grazie alla vostra trasmissione Ci ha chiamato un ragazzo da Ascoli Credo portatore di Handicap Che tra l'altro ha voluto i due cd Tutti e due li ha voluti Il primo e il secondo Noi praticamente gliel'abbiamo mandati E francamente ci fa veramente tanto piacere E quindi lo salutiamo Bene Poi diciamo per chi lo volesse acquistare Sta sia nei negozi specializzati che vendono dischi di questo genere Oppure online sul vostro sito Anche andando su www.millevoci.eu Andate comunque Oppure sul nostro sito www.sosrock.it Allora SOS che adesso ci cantano Stringimi SOS Non ti ha chiesto nessuno D'essere gentile con me Non voglio nessun compromesso Per andare fuori di qui Dammi solo quel che mi aspetta Quel pizzico di libertà Dammi solo quel che mi aspetta E quel che hai chiesto io Esaudirò Stringimi Più forte ora Toccami Ora che puoi Ora che puoi Stringimi E non far scendere quella doccia ora E vedrai E vedrai Che il tempo Stanotte Non passerà Non passerà Non passerà Non passerà Non ci ha ordinato nessuno Di venire con me Io t'avevo avvisato Le condizioni che do Dammi solo quel che mi spero Mi aspetta E abbassa la tua vanità Dammi solo quel che mi aspetta E il tuo sogno mio Esaudirò Stringimi Più forte ora Toccami Ora che puoi Ora che puoi Stringimi Stringimi E non far scendere quella doccia ora E vedrai Che il tempo Stanotte Non passerà Non passerà Non passerà Non passerà Non passerà Dammi solo quel che mi spetta, è abbassare la tua vanità Dammi solo quel che mi spetta, devi il tuo sogno Io esaudirò Stringimi più forte ora Toccami ora che puoi, ora che puoi Stringimi e non far scendere quella docciola E vedrai che il tempo stanotte non passerà Non passerà Non passerà Stringimi, grazie OS Ragazzi io ho un regalo per il vostro chitarrista Quale? Gli ho portato le scarpe Grazie Perché lui prima mi ha detto vorrei avere delle scarpe più alte così da guardarti negli occhi E io gli ho portato le scarpe Ti piacciono le mie scarpe? Me le porto via io Sì sono le scarpe di Maracaibo Pubblicità, SOS Grazie 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 a tutti.